L'influenza è un importante problema di sanità pubblica a causa del numero di casi che si verificano in ogni stagione e visto che i virus annualmente tendono a presentare alcune variazioni, si determina l'epidemia influenzale che potrebbe interessare anche coloro che hanno già subito un'infezione o che sono stati vaccinati l'anno precedente. I primi a dare il buon esempio e a farsi iniettare il vaccino sono proprio i medici del Dipartimento di Prevenzione dell'Area Vasta 1 che hanno dato il via alla campagna vaccinazioni contro l'influenza. Dalla settimana scorsa sono arrivati circa 50.000 dosi di vaccino che sono state distribuite a tutti i medici di medicina generale e quindi la vaccinazione è raccomandata ai soggetti a rischio, soprattutto quelli che hanno un'età maggiore a 65 anni e possono recarsi direttamente negli ambulatori dei medici di medicina generale. Anche i soggetti più giovani che hanno patologie come patologie polmonari o respiratorie o cardiache o di altro tipo possono rivolgersi al medico di medicina generale per effettuare la vaccinazione anti-influenzale che è opportuna. L'anno scorso il caso delle vaccinazioni ha provocato migliaia di ricoveri in ospedale e anche diversi morti. Che tipo di copertura sarebbe necessaria? Dunque per avere una buona protezione della popolazione in generale bisognerebbe raggiungere meno coperture pari o anche superiori al 65% come ha auspicato anche dal Ministero della Sanità. Purtroppo negli ultimi anni e soprattutto l'anno scorso abbiamo registrato come già stato detto un calo importante perché ovviamente si è in qualche modo ecco diffuso il panico a seguito di un vaccino che era imputato di creare problemi importanti cosa che in realtà non è stato. Le possibilità che i vaccini in generale oltre che il vaccino anti-influenzale di un effetto collaterale importanti sono estremamente direi quasi inconsistenti. Non possiamo dire innocuo ecco ovviamente come nulla è innocuo in medicina ma come abbiamo più volte ribadito questo vaccino anti-influenzale come tutti i vaccini sono il presidio più sicuro e importante per la prevenzione che esiste in medicina. Qui direi che possiamo attenderci un po' di fastidio locale, forse qualche linea di febbre ma niente più. Controindicazioni non ce ne sono sostanzialmente, sono pochissime e veramente limitate e queste sono a conoscenza dei medici di base che ovviamente provvederanno a non vaccinare quei soggetti a cui la vaccinazione non può essere praticata.